Let's go bitches! Se state guardando questo video io sto volando dall'Italia alla California Perché? Perché sto andando a partecipare al Cold War Championship Il torneo da un milione di dollari sponsorizzato dalla Microsoft Dove partecipano i 32 migliori team da tutto il mondo Dalla Corea, dal Giappone, dal Sud Africa, dall'Europa, dall'America eccetera eccetera In noi abbiamo un girone difficilissimo Avremo nel girone gli Strictly Business Che sono il miglior team americano Ha vinto tra l'altro le qualificazioni per il Cold War Championship Avremo anche i Vitality E un team straniero che non so da dove viene, non ricordo nemmeno il nome Comunque cosa vi posso dire? Sicuramente è un girone difficile Quest'anno non ci siamo allenati Ho sempre avuto voglia di allenarmi da pure prima delle qualificazioni Ma i miei compagni di team Il team sublime non hanno mai voluto Preferiscono giocare comunque la modalità italiana Quella chiamata CPC Il torneo di personal gamer E non mettere più la dedizione che hanno messo l'altranno A me dispiace molto questa cosa perché ho provato a spronarli Almeno dire proviamo a giocare, alleniamoci Almeno non andiamo lì per fare una figura di merda E ovviamente quando andremo lì a giocare Giocheremo dando il massimo e giocando per vincere Ovviamente non andiamo lì dicendo Tanto famo schifo perdiamo No, non faremo sicuramente questo Però sicuramente questo è Se le partite andranno male sapete il perché Non mi voglio nascondere dietro a qualcosa Ma questa è la verità Ho cercato di spronarli, di almeno di fare GB Quindi giocare almeno cercare di distruggi Ma niente di tutto questo Comunque quello di cui voglio parlarvi è anche del fatto che Finito il Code War Championship io non farò più parte dei Sublime Mi è stato fatto capire nei giorni scorsi Che i Sublime vogliono rimanere Colga, Frido, Collision e Royal E continuare la loro strada Quindi finito il Code War Championship io non farò più parte del team Sublime E non so nemmeno cosa farò Deciderò poi più avanti cosa fare Non posso darvi una risposta ora Per quanto riguarda il canale di Youtube Bene ho già uppato dei video molto particolari Quindi da domani vedrete dei video veramente particolari Spero vi piacciono specialmente Ci sono due video che sono veramente epici Io spero che voi diate tutto il vostro supporto possibile Durante il Code War Championship Perché io ne sarei felicissimo Almeno da parte mia Quindi spero lo facciate Spero che ti ferite per noi E comunque cercheremo sempre di dare il massimo Magari non si sa Magari arriverà qualche vittoria Magari riusciremo a passare i gironi inaspettatamente Non lo so cosa può succedere O magari ci sarà una magra sconfitta Comunque io spero vi Questo vlog vi sia piaciuto Vi ho voluto dire come stanno le cose veramente Quindi bitches Ci becchiamo al prossimo video Che è domani alle due e mezza Let's go bitches Che è domani alle due e mezza Grazie.